Giusto? Certo. È il batterista giusto. È perfetto in questo disco. No, sono rimasto un attimo perché gli sguardi di Richard ha permesso... No, 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 ma io mi chiedo... Perché mi guardi così? Cioè, capisci? È una sfida, eh, sì. Non lo so. Non lo so, capisci? No, a volte mi guardi in maniera strana, capisci? Allora non riesco bene a capire, capito? Comunque, in ogni caso, abbiamo deciso, no? I livelli, ci sono i cinque livelli, no? Ti ricordi? I cinque livelli della RBO, ma è una se no, povero cazzo? Perfetto. No? L'abbiamo capito.